Sì, sì, assolutamente, questa è una settimana che dobbiamo liberare un po' la testa e mettere su un bel carico di lavoro perché abbiamo ancora un bel po' di rabbia dentro, dobbiamo un po' sfogarla, dobbiamo trasformarla in energia la settimana prossima. C'è tanta rabbia dentro, abbiamo voglia di riscattarci e di portare a casa punti, punti quelli che servono. Assolutamente, sarà un periodo che ci gira tutto male, dobbiamo cercare noi di girare dalla nostra parte, si fa attraverso il lavoro, testa bassa e lavorare tanto. Evidentemente quello che stiamo facendo non basta, quindi dobbiamo fare molto, molto di più da tutti, quindi testa bassa, come ho detto prima, testa bassa e lavorare e le cose cambieranno. Guarda, ogni partita che abbiamo visto la Serie B è dura, quindi con qualsiasi avversario è davvero difficile. Veniamo tutti e due da momenti un po' così e sarà una partita tosta.